Un minuto, un solo minuto per ascoltare, guardare, riflettere, tutto in italiano. Immaginate per un momento di saper disegnare benissimo e qualcuno vi dice disegnate la migliore versione di voi stessi. Allora vi mettete, fate questo disegno ed esce fuori un tizio brutto, scorbutico e magari arrabbiato con il mondo. Vi guarda questo tizio e vi dice mi potevi disegnare un po' meglio di così, non credi? Ecco, forse è il caso che ci ricordiamo che possiamo disegnarci meglio di così. Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.